ciao popolo eccomi qua allora oggi video un po diverso e oggi ce la prendiamo easy facile oggi ci divertiamo un po con le pietre sintetiche intanto perché ogni tanto è bene parlarne poi perché molti mi stanno chiedendo a ma che pietra mi consigli per iniziare per bisellare eccetera tanti dubbi e poi perché l'analisi delle pietre è forse uno dei campi in cui il microscopio ci sta bene perché non si deve prestare interpretazioni a ma quello che vedi non vuol dire no no vuol dire oggi con il microscopio ci divertiamo a vedere come come abbradono le pietre sintetiche per cui non voglio fare scalette non voglio fare comparazioni però ci divertiamo un pochettino tra l'altro approfitto subito per farvelo vedere cambiato l'illuminazione microscopio è sempre lo stesso e guardate è in diretta e non è un'immagine fissa vedete come come si muove difficilissimo adesso mettere a fuoco per bene quindi la messa a fuoco sarà sempre un po approssimativa però con questo nuovo tipo di illuminazione credo che l'immagine sia molto più tridimensionale quindi simpatica da vedere allora prima di cominciare a spazzolare con le pietre andare a vedere che il risultato fanno sull'acciaio come abbradono e come sono i marchi d'affilatura io voglio cominciare subito a dire una cosa attenzione nelle fasi iniziali di impostazione dell'affilatura affilare sulle naturali o ad affilare con le pietre sintetiche le naturali non portano nessunissimo vantaggio scusate c'ho sto ma mozio qua fare una bisellatura che poi noi parliamo di bisellare ma in realtà l'angolo il bisello è già formato in fabbrica certo a volte noi abbiamo bisogno proprio di andarcela a cambiare di ricostruirlo quando magari dobbiamo togliere dei chip dobbiamo abbassare un po la lama comunque genericamente quando noi diciamo l'inizio dell'affilatura la fase dell'impostazione ecco del bevel già ieri mi sono arrivate delle richieste in privato a mauro ma cosa mi consigli una naturale per bisellare attenzione che le naturali per bisellare ripeto non portano nessun beneficio anzi io consiglio a tutti principianti intermedi ed avanzati le impostazioni di base la sintetica va benissimo anzi è un risultato prevedibile è un risultato ripetibile quindi usando quella pietra quella pietra si comporterà sempre nello stesso modo la naturale c'è sempre quella minimo di variabilità che oltre dall'abrasivo interno è dato dalla matrice per cui già lappando la pietra levando due micron sul piatto ad affilatura la pietra potrebbe cambiare e anche di parecchio mentre con la sintetica fatta in fabbrica un abrasivo scelto scientificamente affogato in un legante le prestazioni quelle sono può essere più o meno performante a secondo della durezza dell'acciaio ci sono marche più specializzate verso gli acciai al carbonio e marche che hanno fatto pietre più dedicate a ad acciai ad esempio inox pietre che si intasano prima pietre che si intasano dopo ma la pietra sintetica attenzione non la consideriamo una pietra di serie b quando sentite uno io affilo tutto sul naturali non è che sta dicendo sta gran cosa io affilo sul naturali di preferenza ma perché perché mi piace anche fare collezioni di pietre per cui ho tante e mi piace fare tutto sulle naturali ma sono il primo a dire vado a bisellare con la famosa macusa bianca o vado a bisellare con una tremina missarca ma forse con la tremina missarca faccio meglio prima però a me piace lo faccio per un piacere personale durante l'affilatura vi ripeto non è che la macusa o la binsui mi portino chissà quale vantaggio anzi ci metto di più devo stare più attento a me quello piace affinare tutto con le sintetiche è semplice è forse più prevedibile step per step ci lasciamo tranquillamente lo spazio per l'ultimo passaggio su una naturale per dare quel carattere di dolcezza al filo un filo rifinito per esempio sulla santa giapponese su una nagayama su uno zuko su uno kudo su uno ira chi più ne ha più ne metta sicuramente è un filo più aggraziato più morbido particolare si riesce a fare la satinatura cosa che con le sintetiche non si riesce a fare per cui poi alla fine il risultato sul viso è un rasoio tagliente ma la taglientezza e l'abbiamo data sulle sintetiche e dolce da graziato perché l'abbiamo rifinito con una bella pietra naturale poi ognuno ha i suoi gusti chi piacciono le belghe chi piacciono gli europei piacciono le ardesi e chi piacciono le turinja le nuova pulisi americane le giapponesi chi più ne ha più ne metta e lì entriamo nel campo del gusto personale basta non chiacchiero più allora scusate c'era un attimo un discorso da pare anche sulle diamantate ma lo faccio pietra durante allora vado in ordine di grit sul sulle mie pietre su quelle che ho a disposizione quindi inizierò con una pietra 400 la faccio vedere con una nano un grit 400 che io ho comprato ovviamente di questo gritto molto basso su per i coltelli però con la mano leggera con le dovute accortezze si riesce ad utilizzare anche su sui rasoi che magari necessitano di forti correzioni nel rasoio molto cippati rasoio dove il bevel non è uniforme dove c'è da correggere o la punta o il tallone quindi attenzione anche grit che sembrano estremi se usati con le dovute accortezze oggi oggi vado per tempo vanno bene e qui mi viene in mente subito la prima cosa per cui vi faccio vedere questa tabella che è presa da utensili professionali la vedete quindi per fare un po di chiarezza sul grit attenzione al grit perché bisogna vedere il grit in che scala viene espresso le scale fondamentalmente quelle più commerciali vedete le scale sono tante andiamo all'inizio vedete per come si può classificare un abrasivo per la sua grandezza in micron sulla scala fepa p sulla scala fepa f che questo ci interessa vedete abrasivi soliti quindi l'abbiamo detto in micron in millimetri e se sì il micron in millimetri scusate ho detto una stupidaggine in micron e la scala giapponese che invece è quella stra usata su tutte le pietre sintetiche ad acqua spesso sono stato contattato in privato ma tu usi sempre la missarca eh ma io quella tua missarca 1200 4000 non la trovo adesso è lì a bagno un attimo attenzione bisogna vedere come è espressa la scala andiamo a vedere quindi ricordatevi che quello che ci interessa sono la terza e la quarta scusate la terza e la quinta colonna andiamo giù andiamo a vedere la missarca che si trova sempre dove c'è scritto eccola qua f 500 cioè io trovo sempre la 500 ma tu la 1200 l'hai trovata ma la 500 se c'è la f davanti è sulla scala fepa che equivale alla j è la scala gis giapponese 1200 quindi la mia missarca 1200 4000 la potreste anche trovare scritta come 500 guardate 1200 eccolo qua vedete fatemi vedere che cosa sto inquadrando non non vedevo il questa 500 aspetto faccio un macello tra quello che vedo sul coso e 1200 che è la 4000 ecco qua scusatemi allora rifaccio f 500 equivale a j12 f12 equivale a j4000 quindi così rispondo a tutti quanti la missarca la potete trovare o sulla scala gis quindi già indicata come 1200 4000 così come l'esemplare che ho io o sulla scala fepa che è più usata sugli abrasivi europei come f 500 1200 quindi la missarca 500 1200 se porta la f davanti in realtà è la famosa 1200 4000 che uso anche io ok quindi attenzione di queste scale di conversione è pieno il mondo per cui basta che ne cercate una utensili professionali un sito per tutti quelli che traffichano con l'affilatura conoscono andate a cercare che come vedete avete le scale di comparazione ultima cosa diffidate da chi sulle pietre o sintetiche o naturali vi spara i mille mila grit così a cavolo perché l'ultimo grit il grit più fine che è stato testato provato certificato il laboratorio è il grit 8000 questo qui quindi sulla scala gis 8000 sulla scala fepa 2000 adesso per non fare casino riferiamoci solo alla scala gis che è quella sulle pietre che ci interessa di più fino al grit 8000 è certificato è vero sopra il grit 8000 sono tutte interpretazioni del venditore la pietra 10.000 la pietra 10.000 la pietra 13.000 la pasta abrasiva da mettere sulla coramella 30.000 certificata certificata da chi l'ente certificatore della scala gis o della scala e fa 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 si ferma alla grana 8000 si ferma a un micron virgola due quindi io non dico che non siano fini quelle pietre cioè no pure io sopra la la 8000 10.000 13.000 ecco una pietra che poi vi farò vedere all'opera la sigma select 13.000 purtroppo 13.000 dobbiamo stare alla fiducia del produttore perché non c'è nessuna scala queste si certificate che possono dimostrare l'autenticità di quello che dice il produttore fino a 8.000 si sopra gli 8.000 no basta adesso di ghiacchie ne abbiamo fatte tante allora questa come avevo già fatto vedere scusate che la luce eccola qua la grandezza in micron è un 400 adesso cerchiamo di andare avanti un po più veloce allora adesso prendendo quel rasoio che vi ho fatto vedere eccolo qui che li vedete anzi bevele già abbastanza pulite tutto noi adesso lo distruggiamo sto bevele per vedere i marchi di affilatura delle varie pietre che useremo eccoci qua io intanto vi do una bella bagnatina la pietra ancora non è perfetta stamattina gli ho dato una pulita con la diamantata e poi se non lo faccio estremamente lungo sto video parleremo anche diamantate perché la gente pretende di lappare le pietre a 5.000 6.000 poi le pietre l'unico risultato è che rallentano ragazzi una volta spianata la pietra la pietra non va tirata alla morte lucidata a meno che non siano pietre particolari tipo le novacoliti le novacoliti o americane o canadesi sono le uniche pietre che più sono tirate più sono lucidate e meglio funzionano per cui si fa anche il burnishing su quelle pietre cioè proprio si lucidano a morire ma altre pietre qualsiasi altra pietra quando siete arrivati a 600 a tirarla a 600 a raffinare la 600 basta è pure troppo perché altrimenti l'unico intanto inizio altrimenti l'unico risultato che ottenete quello di rallentarle ok e adesso cercherò chiaramente non non vado in affilatura quindi cercherò di fare sempre lo stesso movimento con la lama 45 gradi e cercherò di farne più su questo lato perché è quello che poi si vedrà al microscopio perché quando vado al microscopio il rasoio logico in questo verso e tanto per dare una pulita al filo qualche passata di raccordo anche per non storcerlo questo caso però diciamo il grosso del lavoro noi adesso stiamo cercando solamente di marchiare questo rasoio di far apparire dei marchi di affilatura vediamo se queste poche passate hanno ottenuto vedete adesso purtroppo il bianco spara però va sicuro che un po' di rimatura c'è un po un bel po di rimatura già si vede ok forse riuscite a vederla un pochettino qua forse se ecco se gli faccio un po d'ombra la vedete ok quindi adesso diamo di nuovo sotto il microscopio andiamo a vedere sto rasoio nostro rasoio andiamo a vedere i marchi di affilatura e lascia una nano una 400 sempre più difficile la messa a fuoco ok aspettate un attimo avrei avuto bisogno forse di qualche passaggio in più comunque vedete che sicuramente marchi ce ne sono sicuramente sono marchi grossolani si può vedere anche la differenza sul filo perché voi calcolate che a ogni gola che vedete sul filo a ogni avvallamento che vedete sul filo in quel punto corrisponde un segno corrisponde una rigatura l'acciaio viene inciso arrivato sul filo lascia la sbeccata per cui quello che non si riesce a vedere bene 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 vediamo se se riesco forse in diagonale a dargli una luce migliore vediamo un po ok questa è una 400 purtroppo ragazzi vado un po' veloce perché se no qui altro che ora anche perché questa era tanto per curiosità perché sinceramente questa sul rasoio è una pietra di nicchia o adesso andiamo a vedere voglio fare vedere aspettate devo devo farmi un po di spazio perché allora andiamo a vedere un paio di pietre più o meno anzi tre pietre più o meno stessa grana vi faccio vedere il siamo intorno al 1000 1200 vi faccio vedere le famose miss arca una singola una combinata messe a paragone con una king sempre mille due quindi come abbiamo visto prima scusate dove siamo eccola qua la vedete la scala fepa 500 quindi miss arca 500 andando a vedere sullo schermo lo vedete il 500 equivale al gis 1200 ci siamo ok ritorniamo qua quindi diciamo questa è una 1200 adesso quando non specificiamo la scala la scala delle pietre giapponese d'acqua e gis è inutile che stiamo a perdere troppo tempo o io lavoro parecchio sull'emissarca per due motivi fondamentali uno perché sono pietre che non temono nessun tipo di acciaio sono pietre dall abrasivo e colindone bianco scusate mi aiuto con l'altra mano per fare prima per asportare maggior materiale in meno tempo abrasivo in colindone bianco ma di ottima qualità perché molte pietre sono in colindone bianco non hanno paura dell'acciaio inox dell'acciaio a carbonio una miss arca taglia sempre io le uso le uso tante e altro guardate come mangia altro vantaggio non da poco le miss arca possono essere stoccate permanentemente in acqua e io lo faccio a fianco a me c'è una vaschetta che non riesco a inquadrare forse una volta ve l'ho fatta vedere con uno due tre quattro cinque con sei pietre sintetiche perennemente in bagno d'acqua ogni tanto di cambio l'acqua la ripulisco perché comunque quando vado a riporre le pietre magari sono ancora sporche ci hanno residui la creatura per cui dai dai e dai scusate faccio qualche altro passaggio da quest'altra parte e non sapete che gran comodità è avere le pietre sintetiche sempre pronte all'uso altrimenti c'è la marca quella che dici devi aspettare cinque minuti quella no 15 minuti in bagno d'acqua e poi tiri fuori subito si asciugano devi continuare per cui controllate sul sito del produttore perché controllato ogni pietra anche all'interno della stessa marca magari ci sono serie di pietre diverse andate a controllare sui siti del produttore più del venditore per essere sicuri di non fare danni se vedete che è permesso lo stoccaggio permanente in acqua ragazzi vi assicuro è una comodità di quelle grandi e io parlando parlando vado di nuovo al microscopio stavolta l'ho preso un po prima eccolo qua eccolo qua vediamo un po allora in grandimento è talmente forte che basta spostare la messa a fuoco di millimetri vediamo se anche qui magari inclinando un po la luce batte meglio ecco qua vedete questa è proprio la mille la classica mille da impostazione da rasoio una pietra più che mille parliamo della mille bisarca guardate una pietra sia aggressiva avete visto in quanto poco tempo guardate era pulita questa pietra e l'ho pulita prima del dell'inizio del video guardate quanta limatura ha prodotto però vedete allora è una pietra ben costruita quello lo possiamo dire perché i marchi di affilatura hanno tutti lo stesso spessore quindi non ci sono abrasivi più fini più grossolani mischiati insieme la scelta vedere dei marchi di affilatura che hanno tutti la stessa larghezza visivamente significa che la grandezza dell'abrasivo è molto uniforme quindi questo depone a favore della serietà della ditta quindi vedete il bordo sfrangiato ovviamente il filo il tagliente è sfrangiato ovviamente un'altra volta però sfrangiata anche lì bene se guardate intervalli regolari se analizzate l'immagine per settori vedete che anche la sfrangiatura del filo è uniforme è uniforme il tipo di abrasione vediamo se è qua giocando con la luce i risultati cambiano assai ecco forse quasi riesco di mettere a fuoco eccolo quindi ci siamo una pietra che io consiglio consiglio però a chi c'è a testa perché è una pietra molto aggressiva una pietra che abbrate tanto e velocemente quindi due passati di più o un po di pressione in più è una pietra pericolosa onestamente pericolosa ci siamo allora aspettate cambiamo rimettiamo a posto la miss arca e andiamo subito a prendere l'altra miss arca qui un po sporco ma si vede lo stesso vedete questa qui gis la scritta si si legge poco 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 però se avete gli occhi buoni riuscire a vederla questa è su scala gis sempre miss arca è però 1200 4000 ma siamo questo lato 1200 stiamo parlando dello stesso abrasivo che abbiamo appena usato anche visivamente lo vedete che è diverso che cosa cambia cambia elegante perché l'ho detto intanto comincio l'ho detto all'inizio di questo video quando si sceglie una pietra non va scelto solamente in base alla granulometria perché le pietre sintetiche cambiano carattere cambiano modo di lavorare anche a secondo di che elegante è stato utilizzato per la realizzazione non solo per il tipo di abrasivo anche questo è l'indone bianco e la brasil è lo stesso però un legante diverso anche perché ne eleganti ci possono essere anzi ci sono tanti additivi additivi per indurire la pietra additivi lucidanti ci potrebbero essere cene industriali per cui anche a parità di gritta parità di taglio alla fine due pietre di due marche diverse dichiarate stesso grit possono portare a risultati totalmente diversi proprio per la matrice in cui sono affogati gli abrasivi e vabbè e c'è anche il processo di produzione quello che viene fatto per ventrificazione quello che viene fatto per aina autoclave pressione calore non ci andiamo a mischiare perché sennò veramente la facciamo troppo complicata come ci si aspetta da una pietra 1200 è una pietra dove si asporta parecchio materiale quell'altra era facile vederlo perché la bianca questa è celeste però vedete che materiale ne è venuto fuori tanto e in poco tempo andiamo sotto il microscopio anche qui vedete cugine carnali cugine carnali la grandezza più o meno è la stessa e la grandezza visiva dei marchi di affilatura più o meno quello la sfrangiatura è più o meno quella se vogliamo fare proprio i pignoli io qui vedo meno uniformità rispetto all'altra miss arca quindi parliamo della stessa ditta costruttrice dov'è miss arca questa miss arca quella questa mi sembra di un livello leggermente superiore ha lavorato meglio ha lavorato più uniformemente i graffi i marchi di affilatura mi sono sembrati molto più simili tra di loro qui è un'ottima pietra per carità di dio però se vedete tra il lato il vostro lato destro del tagliente e il vostro lato sinistro vedete che anche la sbeccatura la sfrangiatura del filo non è proprio uniforme uniforme è chiaro che stiamo parlando di immagini al microscopio massimo ingrandimento stiamo parlando del sesso degli angeli perché insomma bene o male la qualità media nell'ambito della stessa ditta è quella per me dovendole ricomprare è chiaro che comprare due pezzi singoli costa sempre leggermente di più che comprare la combinata io in questo momento otterei per il singolo pezzo pauli che terza pietra da mille due dopodiché andiamo avanti perché se no non è che rimane a questa la vado a rimettere subito in acqua perché poi ci interesserà per il lato 4000 o la pietra mille due che vi faccio vedere è la pietra forse la pietra più famosa che c'è sintetica per l'affilatura del coltello la king di solito sui coltelli si usa la 800 è quella che va per la maggiore già però raccontato in altri video io ho preferito intanto prendo il rasoio e comincio sennò qua non finiamo mai io volevo comprare la 800 non ci sono riuscito perché non c'era la disponibilità e quindi c'era pronta la 1.200 ho detto vabbè tra 800 e 1.200 non è che ci sarà tutta sta differenza e quindi devo dire la uso con soddisfazione sui rasovi e scogli sui coltelli sui rasoio ogni tanto perché guardate allora è la pietra più morbida del trio le missarca sono dure la la king invece è morbida perché a questo colore perché la base elegante argilla argilla sicuramente additivata da altri componenti che chiaramente la ditta non ti dirà mai però si sente la maggior morbidezza della pietra proprio sotto il rasoio anche al passaggio ma guardate già la differenza di velocità di abrasione rispetto alla missarca attenzione è una grande pietra questa non la voglio denigrare è una grande pietra sicuramente sul sui coltelli io la uso veramente con soddisfazione però vedete a brade a brade insomma spero che si veda la differenza di colorazione anche con la webcam però è sicuramente più lenta non è una pietra in assoluta non esista sintetica lenta prendiamoci chiaro è lente possono essere naturali però da una pietra dalla più morbida delle tre ma mi sarei aspettato maggiore velocità di abrasione perché essendo morbida dovrebbe scoprire sempre abrasivi freschi no andiamo a vedere che cosa sta succedendo sotto il micro sport eccoci qua guardate com'è cambiato abbiamo cambiato marca è cambiato il mondo allora è una pietra che tende a satinare mentre le altre due erano belle nette niti dei marchi di affilatura è una pietra che tende a satinare guardate non è una vera satinatura però ha dei marchi di affilatura eccezionali cioè stiamo parlando di una mille due ragazzi mille e due non stiamo parlando di una pietra da finitura però guardate una mille due rispetto alle immagini di prima quando vedrete questo video magari stoppate tornate indietro andatevi a riguardare le altre immagini al microscopio cioè qui sembra che siamo saliti proprio di grit e invece stiamo parlando della king mille e due fino adesso non abbiamo mai cambiato grit sembra sembra che siamo saliti chissà di quanto bello vero chiaramente la leggera satinatura è data dal fatto che la matrice argillosa va in auto auto slurry che è brutto a dirlo va in fanghiglia da sola basta lo strofinare del rasoio che subito la pietra si impasta sulla superficie se non volete questo effetto va spruzzata d'acqua di continuo va sempre tenuta pulita e bagnata però avete visto la sorpresa adesso metto via la mille due cominciamo a salire quindi cominciamo a salire e cominciamo a andarcene sul su forse un quello che per noi è la misura di entrata più che ci piace di più diciamo intorno al 3000 io una vera 3000 non ce l'ho o meglio ce l'ho ma non la tiro fuori perché la vecchia la nina serie economica quella lato mille lato 3000 una combinata mille 3000 che dire che è morbida è poco quindi pure questa mi sarca però sulla scala febba mille ve lo faccio rivedere per l'ultima volta questa schizza tutto dove siamo eccoci qua mille eccola qua no ho sbagliato è vero stavo confondendo con la mille due la febba mille in realtà è un gis 3000 quindi eccola qua pensavo di non averla ma faccio 4000 mente mia ho detto a stronzata in diretta va bene meglio così ok quindi ce ne andiamo di nuovo quindi ripeto gli ultimi marchi da filatura che avete visto sono quelli della king 1200 adesso dalla king 1200 passiamo alla miss arca premila aspettare voglio fare un po di passaggi anche sul lato che non si vedrà al microscopio se no alla fine di sto video su rasoio sarà da buttare sarà talmente storto però qui come al solito ne faccio di più mi aiuto con la manina sulla punta come fanno tanti che non c'hanno il polso per poter far questo i giorni in più in più guardo internet più di gobo vabbè sto pensando a voce alta ma di come video non è un obbligo ma se non sai quello che fai se c'è la manualità dell'orso con l'artrite ma lascia perdono ok vedete pure qui allora qui però dico subito sensazione mia l'abrasione ancora c'è non è eccezionale devo dire vabbè vero stiamo salendo di grit quindi la pietra a mangiare mangia non mangia chissà quanto perché io la pietra la sento sotto il filo sento duretta piacevole per il patino cioè se spazzola bene però tra le pietre che abbiamo utilizzato fino adesso è quella che sento leggermente più dura rasoio ci andiamo a mettere sotto il microscopio e andiamo a dare una guardata a trovarlo eccolo la vedete di nuovo la caratteristica dell'emissarca emissarca sono carri armati mentre quella king erano spariti marchi d'affilatura anche il bevel si era addolcito scusate il tagliente la linea il filo del rasoio si era addolcito molto e parliamo di una mille due king guardate che cosa vi fa la tremila missarca la missarca ignorante però io continuo a volergli tanto bene perché non ti abbandona mai che adesso il rasoio fosse stato questo qui o in k720 o in o2 dati di qualsiasi acciaio dati di qualsiasi tempra e la missarca asporta materiale sempre però come vedete è una pietra da lavoro è una pietra ignorante mettiamola così è una pietra che io vedo molto molto bene sui coltelli dove il materiale da asportare è tanto dove la lunghezza del tagliente è tanta quindi uno deve andare anche con pressioni non indifferenti diciamo che non è proprio il massimo sulla soia lo voglio dire perché sennò un domani un mauro io ho visto il video mi sono comprato una missarca maledetto il giorno che t'ho dato retta attenzione la missarca come ogni pietra ripeto come ogni marca ha i suoi pro e i suoi contro il pro è che taglia sempre che non ha paura di nulla che asporta materiale in modo molto veloce è dura quindi non ballappata spesso però ecco guardate non è propriamente una pietra aggraziata è lo strumento brutale da lavoro e allora adesso cambio immagine via la missarca 3000 e riprendiamo la famosa combinata questa volta però sul lato eccomi aspetta dove sta la scritta eccola qua eccola qua sul lato 4000 o questo veramente è il lato che io uso spessissimo quando c'ho di fronte un rasoio veramente che non va rasoio problematico io sbatto sopra la missarca 4000 fino a che non taglia come dico io uscito da da questa missarca 4000 il rasoio deve far saltare i peli al volo un braccio non come ho visto fare da certi esseri strani perché non posso non so più con con che aggettivi definirli e quelli che se vanno se vanno a zappettare il pelo il rasoio sul sul pelo della mano del braccio ma se c'è contatto con la lama e la pelle pure il rasoio da cucina taglia però poi ho fatto già la barba con il rasoio da cucina per considerare chi usa la bisellatura per dare per dire sì ho creato il tagliente e il tagliente taglia i peli devono passare accarezzandoli ma la lama deve rimanere staccata dalla pelle deve essere uno sfiorare i peli la lama non l'ho mai misurato ma dovrà stare almeno a mezzo centimetro un centimetro dal dalla pelle allora abbiamo bisellato correttamente no a fa la zappetta tina la zappetta tina non serve a niente ok vedete pure qui purtroppo purtroppo c'è troppa luce vediamo se spegnendo una delle due a sto io mezzo luce mezzo in ombra però penso che si veda un po meglio no quindi vedete qui siamo già saliti a 4000 per cui la velocità l'abbrasione del materiale c'è e si vede bene dai non è di quelle che si ricorderanno dice madonna sta piedra e quante veloce però tagliare taglia adesso scusate per uniformare un po andiamo a vedere avete visto poi non sto affilando adesso solamente creando marchi d'affilatura per cui magari non sto dando neanche il giusto tempo alle pietre di di lavorare ogni pietra sicuramente avrebbe avuto bisogno di quel quei due cinque minuti anzi cinque minuti in più a mappa ho beccato il volo al volo scusate se il rasoio è spocco a me questi sono i bevele che cominciano a piacermi tanto stiamo parlando di bevele grossolani cioè di marchi d'affilatura grossolani però guardateli pure qua belli uniformi allineati tanti bei soldatini il filo di nuovo si stava ristendendo ripeto stiamo a 4000 quindi stiamo in impostazione di base ci sono stato un minutino per cui voi immaginate tra due tre minuti di spazzolate che bel risultato veniva fuori io sono molto tentato di di continuare a spazzolare sulla stessa pietra però sto guardando siamo già 43 minuti di registrazione quindi sapete un po di fiducia se mi sono meritato fino adesso un po di fiducia questa è la pietra che vi rende tagliente il rasoio quindi si rimane su questo grit su questa pietra fino a che si il lavoro viene bello uniformato vedete che sul lato del tagliente per voi è quello il tagliente già come si stava riaddrizzando qua sul lato destro c'è ancora qualche gola più più profonda più definita più nitida ma dall'altra parte invece la vedete questa è una grande pietra questa è grande pietra e grande grit è un ottimo grit per fare le impostazioni di base vi ripeto questa è la pietra per cui andate a prendere i peli guardate io qua non ce l'ho più ma senza toccare aspetta per essere inquadrato come devo fare con la maglietta nera comunque il movimento è questo a pettinare il pelo ci siamo quando facendo questo movimento vedete i piedi i peli che che cascano allora avete bisellato per bene se si appettate tutti i lacini sono buoni quindi quando fate le prove visto che poi il rasoio ve lo dovete passare in faccia non imbrogliate con voi stessi insomma su ok quindi ricambiamo di nuovo marca andiamo questa volta di nuovo sulla sulla king ma tu sempre mi sa che king e sì perché con una c'è lavoro sui rasoio con l'altra c'è lavoro sui voltelli però per fare vedere come lavorano le pietre sintetiche vanno bene ma certo non è che potevo andare a comprare 100 pietre sintetiche per fare un video cioè poi soprattutto per me sono esagerato queste pietre perché a me piacciono le naturali per cui sono pietre che onestamente con me lavorano tanto sui coltelli ma pochissimo sui rasoio il coltello ragazzi non date retta le chiacchiere coltello si affila sulle sintetiche pure i maestri giapponesi ormai lo dicono coltello si affila bene velocemente con ottimi risultati su quelle pietre sintetiche ci stanno delle sintetiche veramente favolose guardate questa ecco la king 6000 è pietra veloce fatemi dare una drizzata pure da stare tra parte è pietra morbida quindi come la 1200 rispetto all'emissarca l'impasto è un impasto molto morbido quindi c'è il vantaggio perché abbrate parecchio perché è veloce perché ad ogni passaggio vengono scoperte sempre abrasivi freschi ok adesso per non fare lo stesso errore di prima che però sennò diventa satinata andiamo a diluire andiamo a pulirla con l'acqua e continuiamo con il piano di affilatura pulito ok vedete subito si sta riformando di nuovo voglio andare da questa parte qui che è quella che viene inquadrata dal dal microscopio senza senza esagerare facciamo così no cerchiamo di dare sempre lo stesso tempo a ogni pietra per non favorirne una o l'altra andiamo al microscopio ok mi sembra che la messa a fuoco alla più o meno vedete siamo saliti ancora di grit marchi di affilatura adesso si vedono la satinatura sono stato attento a non fargli la fare quindi qui se non volete se volete il filo più lucido possibile pietra sempre pulita ogni tot passaggi via in acqua via la manata d'acqua e tenere pulita la pietra filo che si sta stendendo anzi possiamo considerarlo steso ragazzi ci sono stato un minuto ma su una 6.000 finita la 6.000 si fa una barba se uno ha lavorato bene si fa un'ottima barba ricordatevi che ci stanno i video in giro di persone degnissime tipo Bob Santini si è fatto la barba in diretta con una 5.000 con una lama rifinita su una 5.000 per cui avendo la giusta progressione avendo lavorato bene con le pietre precedenti dando tutto il tempo necessario alla pietra per poter lavorare e non è questo il caso perché avete visto un minuto due di orologio per arrivare a questo risultato voi immaginate se i due minuti di orologio fossero stati 5 massimo dell'ingrandimento realizzato col microscopio luce radente per far vedere al meglio la pietra e i marchi di affilatura sulla pietra cioè qui siamo già a livello mi faccio la barba anzi posso dire la cattiveria siamo a livello mi faccio la barba in modo molto più confortevole rispetto a tanti rasoi affilati da tanti venditori di fumo che girano cioè questo è già un gran filo un minutino di affilatura vedo solamente due piccole due piccoli avvallamento sulla destra più o meno sulla vostra destra quindi da quella parte lì vediamo un po uno più o meno qui uno più o meno qui e uno sotto la aspetta eh la ma per il resto 6.000 ragazzi 6.000 non millemila ok la metto di nuovo in bagno d'acqua e vado a prendere cambio ecco qua cambio in quadratura adesso la pietra che a me piace tanto i manisci i manisci i manisci bester 8.000 me la sono lappata chiaramente su tutti e due lati perché un lato è santo e benedetto per i rasoi e non ci passi i coltelli sul retro ogni tanto anche se l'8.000 sul coltello non serve assolutamente a niente è una stronzata coltello ecco quando siete arrivati siamo arrivati a 5.000 6.000 altro che lucidate che abbiamo dato al coltello coltello 13.000 14.000 15.000 ma se avanza e li manisci io infatti l'ho presa per i rasoi questa non è da tenere permanentemente in bagno d'acqua infatti avete che asciutta però è una splash and go per cui ho un pochino d'acqua sulla pietra e la pietra è pronta magari all'inizio ci vorrà più di una spruzzatina essendo un'8.000 adesso chiaramente la mano deve essere leggera la pressione deve essere minima quindi adesso scusate do un paio di spazzolate a tutti e due i lati del bevel sempre per non storce troppo sto rasoio dopodiché mi aiuto per tenerlo fermo per fare i marchi di affilatura a 45 gradi ma cerco di non mettere pressione vedete la pietra si sta un po' asciugando quindi è chiaro anche quelle dichiarate splash and go un minimo la devono assorbire l'acqua per cui all'inizio le prime spruzzate ma l'operazione va ripetuta più di una volta poi continuando nell'affilatura si impregna la parte superficiale della pietra e non ci sarà più bisogno di di stare ad annaffiare più spesso allora questa è una pietra abbastanza morbida diciamo che nell'utilizzo mi ricorda ecco più le king che la missarca per capirci è una pietra con un impasto secondo me fatto alla grande perché ebbè è piacevole da da utilizzare è un una sensazione di felpato non so come è meglio trovare un aggettivo tipo vellutino quindi è liscia 8000 chiaramente ma non un liscio vetroso un liscio caldo un liscio ti fa sembrare la pietra più morbida ecco di quello che è in realtà guardate la limatura è chiaro che adesso è un 8000 non si può pretendere la quantità industriale di asportazione di materiale però devo dire che guardando la pietra dal vivo e guardando l'immagine che vi arriva la vostra immagine è molto più chiara dal vivo chiaramente i colori sono diversi e più contrastati prima o poi imparerò a sistemare web guardate però tutto sommato vedete c'è 8000 c'è una bella asportazione quindi pure qui andiamo a vedere al microscopio che si manisce come funziona guardate che bellezza in un minuto aspettate proprio a perché c'è proprio dello sporco sul filo che a questi ingrandimenti un granellino di polvere diventa avete visto che pallettoni bianchi allora la messa a fuoco la adesso la sto mettendo sul centro del bevel chiaramente essendo piano inclinato io devo decidere dove mettere a fuoco in questo momento sto cercando di mettere a fuoco il centro del bevel per far vedere le marchi di appilatura poi se volete mi sposto con la messa a fuoco sul tagliente allora prima considerazione l'immanisci lucida a morire guardate pure qui per giustizia per onestà mentale un minutino anche su questa pietra niente di più ma guardate la differenza cioè la lucidatura si percepisce anche in un'immagine stupida come un microscopio quella che ti può dare un microscopio da quattro soldi prima o poi me lo faccio prima o poi la botta quella buona la faccio quando mia moglie giurerà che non mi ucciderà e mi farà entrare a casa allora ma voglio fare il microscopio quello buono guardate la lucidatura guardate i marchi di affilatura se fossi stato altri due minuti sulla pietra sarebbero quasi spariti totalmente comunque effetto lucidante altissimo filo steso e che te lo dica fa filo steso veramente tanto 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 ma ripeto a me mi è da ride perché sono stati un minuto su quella un minuto su quella un minuto su quell'altra cioè questo non è il risultato di un'affilatura questi sono stati tutti un minuto di strofinata andiamo a vedere i marchi di affilatura e noi stiamo solamente valutando le pietre come lavorano che potenziale hanno ma io immagino se avessi fatto una sequenza tutta su sintetiche a questo punto ci avrei un filo specchiato nitido lucido bellissimo se fossi stato in vera affilatura quindi eccolo lì ritorniamo al discorso dei leganti ma sicuramente nel legante che tiene insieme l'abbrasivo che anche in questo caso è con il don sicuramente ci deve essere qualche gente lucidante avranno usato delle cere dei siliconi non lo so perché poi le formule sono ovviamente segrete sono segreti industriali protetti da copyright quindi non so rimanisci che tipo di impasto come l'abbia creato ma è chiaro che ha influito tanto perché sì ma gli abrasivi hanno fatto quello che dovevano fare ma c'è un effetto lucido specchiato ma che poi chiaramente voi non potete vederlo scusate ma a occhio nudo sul rasoio è qualche cosa di micidiale quello che si riesce a vedere ad occhio ok la levo un attimo vediamo se è difficile è difficile non so come giocare con la luce ma c'è una specchiatura eh ragazzi non ce la faccio questa la devo prima provare prima di cominciare a registrare i video se no ho perso troppo tempo ho l'ultima tanto per farvi vedere che non sempre i mille mila grit discorso di prima fino a 8 mila certificati grit sopra gli 8 mila quindi qua sigma select 13 mila ma 13 mila dobbiamo fidarci di quello che dice il costruttore il produttore perché non esiste una certificazione di grit 13 mila ok quindi anche qua questa vedete come assorbe l'acqua non riesco a farvela vedere questa forse forse scusate questa forse forse quei 5 minuti in bagno male non gli avrebbe fatto la prima spruzzata d'acqua che gli ho dato l'acqua ho visto proprio che penetrava dentro la la bagnerò spesso non fa niente anche qui mano ovviamente leggera perché stiamo in ultra finitura insomma se vogliamo credere se vogliamo dare credito a quello che dice la sigma qui siamo su una pietra finissima altissimo grit quindi io vado come al solito a cercarlo il marchio d'affilatura anziché a cercare di toglierlo quindi sto facendo ecco per esempio il movimento continuo sempre è sconsigliato fare sempre lo stesso passaggio con la stessa inclinazione nello stesso punto è chiaro che è così i solchi li creo anziché toglierli quindi non sto usando la pietra poverina per come andrebbe usata però ripeto questa per noi non è non vuole essere un'affilatura questa per noi vuole essere solamente un test un andare a vedere neanche un test non è che lo dobbiamo mettere alla prova vogliamo vedere avendo un microscopio a disposizione dico ma fammi vedere un po' veramente nel dettaglio come lavorano ste pietre allora questa vi posso dire una cosa l'impasto è decisamente più duro rispetto a quello della dell'imanisci guarda sentite appoggiando anche il rasoio che rumore più acuto che fa quindi sto andando vedete molto piano e dai e dai anche qui un accenno un minimo di limatura si riesce a ottenere la vedete perché comunque le pietre sintetiche ragazzi sono tutte veloci e tutte mangiano per per andare sulle naturali in ultra finitura e vedere in così poco tempo una pietra che mangia e dovete andare a prendere naturali di livello naturali di pregio diciamo non è vero io pure ho la mia nakayama che mangia ma è velocissima sì 99 su 100 è grossolana 99 su 100 è una 4 4 e mezzo che poi sono talmente buone per vedere giapponesi che pure una di medio livello ti regala delle sbarbate di tutto rispetto di tutto comfort ma un conto è il comfort percepito sulla pelle noi adesso stiamo parlando proprio di finezza come valore assoluto standard misurabile prendere il microscopio non il mio quelli seri mettere il vetrino con la scala sotto e contare i micron di ogni singolo marchio lasciato sul sul bevel adesso stiamo solamente cercando di valutare e basta perché parlando parlando sennò ho detto ogni pietra deve avere lo stesso trattamento deve essere usata per lo stesso trattamento ok andiamo a vedere per l'ultima volta il microscopio eccola qua innanzitutto prima considerazione neanche a fare apposta boom è partito un segnaccio così lo sapete che cos'è quel segnaccio è un granello di boom allora qui siamo a dei livelli di finezza talmente alti che piatto di affilatura sporco vi fa questo effetto perché si affila parecchi vogliono fare l'ultimo passaggio sotto l'acqua corrente non perché si affila meglio o chissà quali altri risultati si riescono ad ottenere perché se evitano anzi scusate quelle cose lì quel quello che avete visto lo vedete è di traverso rispetto a tutti i marchi di affilatura sono tutti scusate per voi sono tutti i marchi di affilatura no cazzo è così è che io mi vedo al contrario quindi tutti i marchi affilatura facciamo così che voi vedete dall'alto a destra al basso a sinistra tutti tutti indistintamente tranne ogni tanto uno che va proprio di traverso e uno leggerissimo dritto per dritta quello non è la pietra quello è dello sporco sulla pietra quello come niente un granello di polvere o un po' di ricciolo di bava limatura d'acciaio che è rimasta sulla pietra il rasoio ci è ripassato sopra e ha fatto quel giochino là quindi ripeto ecco perché tanta gente preferisce fare le ultime passate sotto l'acqua corrente per avere sicuramente ad ogni passaggio la pietra il piano della pietra perfettamente pulito chiaro che stiamo parlando di una cosa che non influisce minimamente se guardate bene quel segno che si vede scusate lì io purtroppo al contrario non ha la gola corrispettiva sul tagliente cioè non arriva fino al tagliente dove finisce quel segno non c'è la sbeccatura quindi è un segno che lascia il tempo che trova comunque guardate pure qui allora questa chiaramente va messa a paragone con quella dell'imanici quindi come al solito ogni tanto abbiate pazienza prendete e tornate leggermente indietro per vedere per valutare le due immagini allora che cosa c'è da dire c'è da dire che forse 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 l'ho detto tre volte i marchi di affilatura sono leggermente più sottili leggermente più sottili in effetti il livello di lucidatura io lo trovo leggermente inferiore all'imanici quindi l'impasto tende a lucidare di più quello dell'imanici best piuttosto che quello della sigma ma questa è una peculiarità della casa così come non c'è nulla al mondo che lucidi più di un'ananiva parlo di lucidatura non di graffiatura a prescindere dal livello di grit di graffiatura le naniva lucidano il beve se volete un beve lucido a specchio c'è la naniva c'è cazzata diciamo che tra la sigma e l'imanici preferisco la lucidatura degli manici la sigma per onestà è comunque un beve lucido perché per carità di Dio è un beve lucido i marchi di affilatura sono giusti non so se saranno 13.000 10.000 11.000 comunque sono leggermente più fini più sottili rispetto a quelli dell' 8.000 manisci e chiaramente quindi anche il filo il tagliente ne ha guadagnato il tagliente è ancora quel cinzino più steso rispetto all'8.000 adesso il discorso è è consigliabile l'acquisto? non lo so non lo so perché perché io non mi farei mai la barba su un filo così anche se devo dire perfetto perché nella migliore delle ipotesi se ho lavorato bene se ho affilato bene avrò un rasoio affilato alla morte tirato alla morte aspettate un attimo che sto prendendo una pietra ma non sarà mai dolce come un filo rifinito qua sopra questa è una nana cagliama e neanche la solita santa e benedetta che vi faccio vedere sempre lì lì è giocare sporco questa nana cagliama pescata su ebay quattro soldi che è micidiale pure questa quindi io preferirei arrivare a questo livello di lucidatura e finitura dopodiché però tornerei indietro tranquillamente perché poi passato a qua sopra qualche zenzino si perde per dargli la satinatura per dargli dolcezza per dargli scorrevolezza a quel filo perché attenzione un filo satinato parecchi dicono è più dolce non è questione di dolcezza è questione di scorrevolezza un filo troppo lucido fa l'effetto stricking tende a incollarsi al viso per cui c'è bisogno di una leggerissima voi neanche ve ne accorgete pressione in più e quella pressione in più quel grammo in più che devi mettere è quello che magari te lo rende meno piacevole il filo sulla pelle un filo satinato immaginatevi con miliardi di micro bozzettini sul piatto del bevel quindi fa in modo che l'aria penetri e quindi il filo non si attacca al viso il bevel scusate il filo deve toccare il viso per forza ma il bevel anche quando tocca sulla pelle non tende ad attaccarsi è un po' quello che fanno con i coltelli da cucina adesso c'è la moda di fare il coltello martellato perché così oppure olivato all'italiana perché facendo così l'alimento che tagli non ti rimane attaccato al coltello ma con l'aria che si pone un mezzo quello che hai tagliato tende a cadere ecco perdonatemi l'esempio osceno ma la satinatura sul bevel quello è serve a creare un microfilm di aria ad ogni passaggio per quanto vicino potete essere col bevel anche se in certi momenti il bevel lo fate toccare sulla pelle non ci sarà mai quell'effetto colla stipping in inglese che per esempio è molto evidente con il bevel più alti per esempio un camisori lucidato alla morte non sarà mai un camisori morbido non sarà mai un camisori dolce tenderà sempre a essere molto cattivo ok ragazzi siamo qua io purtroppo devo arrivare da questo punto chiacchiero 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 e poi i video li devo interrompere brutalmente perché abbasso gli occhi e mi accorgo che siamo arrivati a 1 ora e 12 minuti e non è possibile non è possibile allora che dire ragazzi oggi non abbiamo affilato oggi siamo divertiti ad usare il microscopio per fare delle valutazioni sul sul tipo di lavoro sulla qualità media su come lavorano le le pietre sintetiche qui il microscopio ci aiuta perché noi non dobbiamo andare a guardare il vertice del filo il livello di taglientezza non stiamo affilando noi vogliamo vedere proprio il lato del bevel e vedere che marchi lasciano le varie pietre le varie grane le varie marche i vari impassi il livello di lucidatura il livello di satinatura eccetera eccetera quindi un'immagine del lato del bevel l'immagine di questo e qui il microscopio è perfetto quello che dice è Vangelo poi ripeto valutare l'angolo eh no il microscopio non ti aiuta certo sei lavorato bene allora diciamo che il microscopio più pelo microscopio più unghia microscopio più polpastrello quindi metti insieme tutto quanto sì e in questo caso dovevamo valutare solo delle immagini spero che mi siano risultati interessanti altrimenti io mi sono divertito abbiamo perso un'ora e quarto della vita nostra quindi senza più ulteriori chiacchiere io vi ringrazio anzi ringrazio quei pochissimi quelle anime peer che si ci beranno un'ora e quarto di video ma non credo che esistano al mondo magliette quelle da combattimento quindi grazie della pazienza e come al solito un ciao popolo e ci continuiamo a vedere in giro aspetta dove sta no intanto sto a beccare il pulsante per spegnere eccola qua l'ho trovato e soprattutto venitemi a trovare sul sul gruppo sul gruppo facebook che non vi dico neanche quale ciao popolo alla prossima ciao a tutti